In questo video parleremo un po' dell'ordine delle operazioni e voglio che presti molta attenzione perché davvero tutto quello che farai in matematica è basato sull'avere una solida base nell'ordine delle operazioni Allora, che intendiamo quando diciamo ordine delle operazioni? Allora, fammi ti fare un esempio Il punto è che abbiamo un modo di interpretare un'espressione matematica Allora, supponiamo che ho l'espressione matematica 7 più 3 per 5 Ora, se non fossimo tutti d'accordo sull'ordine delle operazioni ci sarebbero due modi di interpretare questa espressione La puoi semplicemente leggere da sinistra a destra perciò potresti dire, beh, fammi prendere 7 più 3 potresti dire 7 più 3 e poi moltiplicarlo per 5 e quindi 7 più 3 fa 10 e poi lo moltiplichi per 5 e 10 per 5 ti darebbe 50 Quindi, questo è il modo in cui lo interpreteresti se non fossimo d'accordo sull'ordine delle operazioni e dicessimo, va bene, allora vado da sinistra a destra Però magari puoi dire, ah, però a me piace fare la moltiplicazione prima di fare la somma e quindi la potresti interpretare in un altro modo potresti dire, faccio prima 3 per 5 e poi dopo gli sommo 7 e quindi diventerebbe 7 più il 3 per 5 che fa 15 quindi diventa 7 più 15 e il risultato farebbe 22 quindi nota che abbiamo interpretato queste espressioni in due modi diversi questo era semplicemente da sinistra a destra facendo prima la somma, quindi, e poi la moltiplicazione in questo modo invece abbiamo fatto prima la moltiplicazione e poi la somma abbiamo ottenuto due risposte diverse e questo non va bene in matematica se questo fosse parte di qualche tentativo di inviare qualcosa sulla Luna se due persone la interpretassero in modo diverso o un computer la interpretare in un modo e un anno in un altro il satellite potrebbe finire su Marte quindi è del tutto inaccettabile ed è per questo che abbiamo un accordo su quale sia l'ordine delle operazioni ci siamo messi d'accordo sul modo di interpretare questa espressione e quindi l'accordo raggiunto sull'ordine delle operazioni è quello di fare per prima cosa le parentesi fammelo scrivere qui parentesi questa è la prima cosa poi arrivano gli esponenti e se non sai cosa siano gli esponenti non ti starei a preoccupare perché tanto in questo video esponenti non ne avremo quindi in realtà non serve che te ne preoccupi per il momento dopodiché fai la moltiplicazione scrivo molto e la divisione questi hanno lo stesso livello di priorità infine fai addizioni e sottrazioni allora quindi qual è l'ordine delle operazioni? allora quindi questo è l'ordine delle operazioni l'ordine delle operazioni e se seguiamo quest'ordine delle operazioni dovremmo sempre raggiungere la stessa risposta per una certa espressione quindi che cosa ci dice? qual è il miglior modo per interpretare questa qua sopra? beh, non abbiamo parentesi queste sono parentesi sono queste cose curve intorno ai numeri quindi qui parentesi non ce n'è e te ne faccio due esempi che erano parentesi non abbiamo esponenti però abbiamo qualche moltiplicazione e divisione o in realtà solo qualche moltiplicazione e quindi l'ordine delle operazioni dice fai moltiplicazione e divisione per primi quindi dice che prima devo fare la moltiplicazione questa è la moltiplicazione, no? quindi dice prima fai questa operazione che ottiene la priorità sulla somma o sulla sottrazione quindi se facciamo prima questa otteniamo 3 per 5 che fa 15 e poi ci sommiamo il 7 quindi la somma o la sottrazione quindi qui abbiamo la somma, no? quindi facciamo prima la moltiplicazione otteniamo 15 poi ci aggiungiamo il 7 e arriviamo a 22 quindi in base all'accordo sull'ordine delle operazioni che abbiamo raggiunto questa è la risposta corretta è il modo corretto quindi di interpretare questa espressione facciamo un altro esempio magari ti renderà le cose un pochino più chiare e l'esempio lo faccio in rosa allora, diciamo che ho 7 più 3 ci metto un po' di parentesi, dai allora, 7 più 3 per 4 diviso 2 meno 5 per 6 allora, c'è tutta una serie di cose folle qui, eh però se segui l'ordine delle operazioni la semplifichi in modo molto pulito e si spera, insomma, che otterremo tutti la stessa risposta quindi seguiamo l'ordine delle operazioni la prima cosa che dobbiamo fare è cercare le parentesi ci sono parentesi qui? sì, ci sono eccole qui ci sono parentesi intorno al 7 più 3 quindi dice fai prima questo quindi 7 più 3 fa 10 quindi questo lo possiamo semplificare semplicemente guardando l'ordine delle operazioni mi ha 10 per e poi tutto questo allora, fammelo copiare e incollare così non me lo devo riscrivere in continuazione ok e quindi lo semplifico a 10 per tutto il resto quindi per prima abbiamo fatto le parentesi poi che cosa facciamo? non ci sono più parentesi in questa espressione, no? e quindi dovremmo fare gli esponenti però qui non ce n'è gli esponenti e quindi se sei curiosa di sapere a che cosa somigliano un esponente a questo numeretto qua sopra piccolino in alto a destra però, insomma, qui gli esponenti non ce n'è quindi non te ne preoccupare poi dice fai moltiplicazioni e divisioni e quindi dove vediamo una moltiplicazione divisione e di nuovo una moltiplicazione quindi qui ce n'è però qui hai operazioni che sono più operazioni allo stesso livello, no? e perché ci sono moltiplicazioni e divisioni allo stesso livello e quando hai più di queste operazioni le fai da sinistra a destra quindi in questa situazione prima moltiplichi per 4 poi dividi per 2 non è che moltiplichi per 4 diviso 2 il 5 per 6 lo potremmo anche fare separatamente perché sta separato diciamo però facciamone uno per volta dai quindi per prima cosa facciamo questa moltiplicazione perché è quella che sta più a sinistra va bene? potremmo fare anche il 5 per 6 ma cominciamo col per 4 facciamo le cose un passo per volta quindi il passo successivo è questo 10 per 4 quindi 10 per 4 fa 40 dopodiché ho 40 diviso 2 meno 5 per 6 lo copio nel collo di nuovo ok e quindi adesso ricordati che moltiplicazione e divisione sono esattamente allo stesso livello quindi le facciamo da sinistra a destra quindi potresti anche scriverlo come moltiplicato un mezzo e quindi quel punto l'ordine non avrebbe importanza ma per semplicità moltiplicazione e divisione vai da sinistra a destra e quindi hai 40 diviso 2 meno 5 per 6 quindi la divisione qui hai solo una divisione e quindi hai questa divisione qui e questa moltiplicazione qui che non sono insieme no? quindi le potremmo anche fare contemporaneamente quindi per rendere chiaro questa cosa che moltiplicazione e divisione hanno la stessa priorità rispetto a una priorità maggiore ci metto un po' di parentesi così almeno possiamo dire guarda faccio prima questo poi faccio questo perché moltiplicazione e divisione hanno la priorità qui 40 diviso 2 fa 20 poi c'è questo segno meno e poi abbiamo 5 per 6 che fa 30 quindi 20 meno 30 fa meno 10 e questa è la corretta interpretazione quindi fammi chiarire bene 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 una cosa se hai cose allo stesso livello quindi se hai 1 più 2 meno 3 più 4 meno 1 perciò somme e sottrazioni sono allo stesso livello nell'ordine dell'operazione no? allora vai da sinistra a destra lo interpreti come 1 più 2 fa 3 quindi come dire 3 meno 3 più 4 meno 1 poi fai 3 meno 3 che fa 0 più 4 meno 1 poi fai 0 più 4 quindi 4 meno 1 e poi fai 4 meno 1 3 ok? vai da sinistra a destra stessa cosa se hai moltiplicazione e divisione tutti allo stesso livello quindi se hai 4 per 2 diviso 3 per 2 prima fai 4 per 2 che fa 8 diviso 3 per 2 poi fai 8 diviso 3 beh qui qui ottieni ottieni una frazione no? che farebbe 8 terzi quindi questo sarebbe 8 terzi per 2 e poi 8 terzi per 2 che fa 16 terzi è così che le interpreti non è che fai prima questa moltiplicazione e poi dividi il 2 per questo e tutto il resto ora l'unica volta che puoi fare veramente come ti pare per quel che riguarda l'ordine delle operazioni è se hai o tutte somme o tutte moltiplicazioni quindi se hai 1 più 5 più 7 più 3 più 2 non importa in che ordine lo fai puoi fare 2 più 3 puoi andare da destra a sinistra da sinistra a destra puoi cominciare da qualche parte nel mezzo però devi avere solo somme e lo stesso vale se hai solo moltiplicazioni tutte moltiplicazioni quindi se hai 1 per 5 per 7 per 3 eccetera eccetera non importa in che ordine lo fai li puoi mischiare va bene? quindi questo vale solo o per tutte moltiplicazioni o per tutte somme ok? se c'è qualche divisione qualche moltiplicazione così meglio se li fai andando da sinistra a destra grazie a tutti